Senatore Fabrizio Di Stefano si riparte da uno spirito che poi è risultato vincente, lo spirito di San Salvo che diventa un modello per il PDL. Beh io credo di sì, l'idea è proprio questa. Noi abbiamo in questo trattato elettorale, che sicuramente non è stata positiva, abbiamo vinto in un comune estremamente difficile con quello di San Salvo. Qual è stata la molla scatenante al di là delle difficoltà del centro-sinistra? È stato uno spirito di volontariato, di passione, di disinteressato attaccamento alla politica, di voglia di vincere, di fare politica per il risultato e per il territorio, di propagandare questo messaggio tra la gente e in mezzo alla gente, di viverlo con una scelta condivisa, con un'armonia di squadra, di gruppo, che ha dato il risultato che abbiamo colto. E allora da questo spirito e da questo esempio dobbiamo trarre ispirazione per rilanciare la nostra azione politica su tutto il territorio. Se abbiamo colto questa vittoria qui e abbiamo perso altrove, evidentemente altrove l'interpretazione è stata diversa e differente. Quindi lo spirito, quello dice anche il titolo della manifestazione, tra la gente e sul territorio è questo. Quindi stare in mezzo alla gente, parlare con la gente, tornare a vivere con quello spirito di passione e di partecipazione l'impegno politico, quell'impegno che deve essere anche da esempio i tanti giovani che comunque continuano per fortuna a animare la nostra attività politica a tutti i livelli. Anche qui a San Salvo nell'ultima tornata elettorale c'è stata una grande partecipazione giovanile e noi su questo dobbiamo ripartire.